Eccomi qua, oggi sono solo, sono giornate complicate, siamo pieni di riunioni, quindi non mi tratterò neanche moltissimo, però sono qua per le domande e per tutto. Passerei al tema del bollettino, eccoli qua. Test rapidi 4.181.625, test molecolari 4.870.000, vi annuncio ufficialmente che abbiamo passato i 9 milioni, 9.052.423 test abbiamo fatto, 9.052.423, mai avrei pensato di fare 9 milioni di tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.094, che sono stati, diciamo, identificati facendo 54.323 test, ovvero un'incidenza del 2%, un'incidenza bassa. Considerate che questa è un'incidenza da contact tracing, cioè positivo, ti dice, i miei familiari si chiamano Tizio, Caio e Sempronio, o questi vicini di casa che ho visto l'altro giorno, eccetera, quindi non è popolazione indifferenziata. Avete visto che quella volta abbiamo fatto quello sorbato era lo 0,3%, è una roba bassissima. Numero dei positivi totali del 21 febbraio, 403.971. Numero dei positivi di oggi, 24.593. ecco qui ancora un bel dato, 1.685, non è che sia un bel dato 1.685 persone in ospedale, però meno 43. il 1.685 sono così distribuiti, 1.449 in area non critica, meno 32, 236 in area terapie intensive, meno 11. I 236 si sommano ai 270 dei non covid, terapie intensive, e siamo a 506 in totale. Per capirsi, questo deve andare a zero, per tornare alla normalità. 20 sono i decessi nelle ultime 24 ore, 19.868 sono i dimessi guariti. Se noi volessimo fare un bilancio, ma lo ricordo Beneficio, perdonatemi dei cittadini, magari che ci servono anche in diretta, volessimo fare un bilancio, noi abbiamo questi due dati importanti. 403.000 sono i positivi intercettati dal 21 febbraio. La statistica ci dice, ormai abbastanza assestata, che metà non hanno avuto sintomi. Quindi 200.000 non hanno avuto sintomi. L'altra metà ha avuto sintomi. In maniera graduale, dal raffreddore, un po' di stanchezza, magari qualche giorno, ha sintomi gravi fino al ricovero. Quindi 200.000 hanno avuto sintomi. La stragrande grande maggioranza, se non la quasi totalità, di chi ha avuto sintomi, di questi 200.000 della metà, si è curata a casa. Quelli che sono finiti in ospedale sono questi. 20.000, cioè di 400.000, 20.000 sono entrati in ospedale e sono usciti guariti. Questi sono i numeri. Quindi c'è un grande lavoro di cura domiciliare fatto dai medici, insomma da tutti coloro che hanno seguito 200.000 pazienti. Però una quota, diciamo, qui noi calcoliamo un 10%, ma anche inferiore, si dice dal 5 al 7%, ha dovuto avere cure più intensive. Considerate che perché vi dico è un po' più bassa? Perché qui ci sono dentro anche, noi abbiamo catalogato anche coloro che magari hanno avuto terapie domiciliari più importanti come la bombola dell'ossigeno, ossigenoterapia e altro. Ma in generale in ospedale dei 400.000 si parla di un 5%, insomma, tanto è vero che tornerebbe anche il conto 5 per 4,20, sono 20.000. Basta, adesso voi sapete, noi abbiamo fatto un sacco di riunioni anche stamattina, in corso una riunione dei presidenti. Abbiamo questa attesa che vogliamo rendere proficua in attesa che il Consiglio dei Ministri approvi il decreto. Vi dico già alcune considerazioni sul decreto. Intanto una prima considerazione che è giusto fare, che noi non stiamo parlando di riaperture. Sembra quasi una provocazione quello che sto dicendo. A maggio dell'anno scorso noi riaprivamo tutto, con gradualità, con decisioni, vi ricordate le linee guida, i bar, i ristoranti, le spiagge. Partì tutta una, come si può dire, quasi una processione nelle aperture. Noi non stiamo pensando di ripartire, perché la stragrande maggioranza dell'attività è rimasta aperta. Noi non stiamo uscendo dal lockdown. Non abbiamo le strade vuote come ce le avevamo a maggio, perché fino all'8 maggio noi abbiamo avuto il lockdown. Fino al 4 maggio abbiamo avuto il lockdown in Veneto, vi ricordo. Stiamo parlando della riapertura di alcune attività che sono rimaste chiuse. E quali sono? Bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema, mondo dell'intrattenimento, spettacoli viaggianti. non voglio banalizzare, ma voglio dire che quindi il contesto non è quello di una ripartenza non sai cosa accadrà, perché comunque la ripartenza la vediamo la strada piena, no? Abbiamo le scuole aperte, non avevamo neanche le scuole aperte, vi ricordo l'anno scorso a maggio, se ricordate. Penso anche che rispetto al maggio dell'anno scorso noi oggi abbiamo qualcosa in più. Le vaccinazioni non c'erano allora. Gli anticorpi monoclonali e tutti i protocolli di cura che allora non c'erano. C'è parlare di vaccino con anticorpi monoclonali a maggio, aprile l'anno scorso. È a fantasia, è a utopia. Abbiamo comunque acquisito esperienza sul virus. Non dobbiamo banalizzare la situazione, perché la situazione è una situazione oggi di quasi 1700 pazienti con la presenza del virus, però è pur vero che un minimo, come si può dire, di buon senso e anche di rispetto di reciprocità nell'apertura ci vuole. È difficile spiegare che una partita di calcio tra scapoli e mogliati si può fare dal 26 in palestra si apre l'1 di giugno. È difficile spiegare che tu fai aprire i ristoranti solo all'aperto in un contesto nel quale è impossibile mangiare fuori. Non c'è nessuno che ha coraggio di dire che qua fa freddo. Boh, no, perché sembra che sia proibito dirlo. Cioè, noi siamo fuori scala, ma lo è anche tutto il centro d'Italia, lo è gran parte dell'Italia. Questa primavera è una primavera più fresca del solito. È difficile pensare che dal primo giugno si possano aprire i ristoranti la sera in zona gialla fino alle 18. Dalle 5 del mattino fino alle 18. Uno dice, ma scusa, spiegami la razio epidemiologica. Cosa vuol dire? Premesso che hai fissato il coprifuogo alle 22. Mi vuoi spiegare perché neanche fino alle 22? Cioè, il virus diventa più letale di notte? No, perché se no non ci preoccuperemmo delle scuole. quindi ho l'impressione che questa modalità debba assolutamente valutare seriamente il rischio perché comunque ogni volta che si apre qualcosa ci assumiamo un rischio, una quota di rischio. Cioè, non è che sia tutto, che questo sia un percorso netto. Di questo io ve l'ho sempre detto. Però è altrettanto vero che ci vuole un equilibrio anche come approccio, no? Perché se io do in mano alla scienza, al comitato tecno-scientifico la decisione, alcune di queste decisioni sembrano incongruenti rispetto ad altre che sono già vigenti. Cioè, è innegabile che il ristoratore ti faccia vedere la metropolitana piena e ti dice scusa, il mio ristorante deve essere vuoto. Vi dico questo perché? Perché vorrei ricordare che le regioni italiane, in un gruppo di lavoro coordinato dalla regione Veneto, hanno presentato le linee guida, ma non le abbiamo fatte con la casacca dei partiti, le abbiamo fatte con i nostri direttori della prevenzione, che magari non saranno nel CTS, ma sono i responsabili della salute dei cittadini e sono quelli che tutti i giorni lavorano con epidemie, con pandemie, con rischi, eccetera. E tutti hanno detto, ad esempio per i ristoranti, regole ferre, introdurre anche il test, il fai da te, perché avete visto, adesso c'è il green pass, dipende da che parte la guardiamo il green pass e magari dopo ne parliamo. Però è fondamentale dire che ad esempio le regioni prevedevano che si aprisse anche in zona rossa, aumentando il distanziamento tra i tavoli. Ovvio che sarebbe stato un distanziamento pesante perché due metri da tavolo vuol dire non aprire quasi i ristoranti, ma eravamo in zona rossa come proiezione. Ma la zona gialla prevede le linee guida che abbiamo lasciato prima di chiudere a mezzogiorno e a sera. Qua non si tratta di fare gli aperturisti o i chiusuristi. Io non voglio essere né catalogato con quelli che vogliono aprire tutto, intanto meno con quelli che vogliono chiudere tutto. Guardare in faccia la realtà. È iniziata la fase della convivenza con i virus. Alla domanda se da qui all'infinito possiamo pensare di continuare con le restrizioni, tutti noi rispondiamo no. Cioè ormai abbiamo capito che portare la mascherina e evitare l'assembramento ci salva la vita. Stiamo galoppando con i vaccini. Dalla prossima settimana ne abbiamo già 50.000 dosi in più a settimana. Noi consideriamo, ve l'ho già detto, massimo un paio di settimane di chiudere i settantenni, i 70-79 anni e poi aggrediremo il target successivo, 60-69 e avanti così. Ma prima dell'estate, se non mi fanno sorprese, io gli over 60, cioè tutti coloro che hanno più di 60 anni sono vaccinati, ma lo dico in via prudenziale perché sono convinto ad arrivare anche i 50 anni. Ho visto delle proiezioni. Però vi dico, già aver messo in sicurezza gli over 60 vuol dire avere un'altra vita. Quanto a coprifuoco, io dico che, premesso a coprifuoco è una brutta parola, premesso che se il motore è sempre il controllo dell'infezione, bisogna sempre che ci sia una giustificazione scientifica. Un segno di disponibilità sarebbe stato quello magari di innalzare un po' di più. Io spero che il Presidente del Consiglio possa valutare questo aspetto, magari alle 23 o togliere il coprifuoco, non ve lo so dire. Però cos'è importante? Il ristorante, per dire. Ma ci sono delle regole che potremmo anche affrontare subito. Se uno è al ristorante, invece che si alzi col boccone ancora in gola o gli danno il piatto in mano e il doggy bag va a casa e finisce di mangiare, magari uno può avere come lascia passare il fatto che ha una ricevuta della pizzeria, piuttosto che della trattoria, piuttosto che di un ristorante. Io penso che queste sono cose ovvie. Ma vi ripeto, non perché dobbiamo fare i fenomeni. Qua c'è poco a fare i fenomeni. Il virus c'è e dobbiamo stare attenti. E ripeto, siamo tutti preoccupati. Noi per primi che abbiamo la responsabilità della salute dei cittadini. Però è pur vero che non siamo in un contesto nel quale siamo tutti chiusi in casa e decidiamo di cominciare pian piano, come a maggio, a aprire. Ve l'ho detto prima. Ma il 90% è già tutto aperto. A voi risulta che ci siano negozi chiusi? A voi risulta che ci siano fabbriche chiuse? Ci sono imprenditori che dicono che hanno fatto record di fatturato quest'anno per alcuni comparti produttivi? Ci sono alcuni imprenditori che hanno fatto il record negativo nella loro storia di perdite. E quindi a noi sono rimasti queste attività, diciamo, da far partire. Bisogna farle partire con... e poi sapete io sono preoccupato perché abbiamo il turismo. Adesso so che in questo mondo non bisogna mai parlare dei soldi e del PIL perché sennò sei un vile che pensa solo ai soldi. Però ragazzi, il PIL serve per sfamare le famiglie, i cittadini. E vorrei ricordarvi che pensare che l'apertura dei parchi tematici il primo luglio... ma sapete cosa vuol dire per il Veneto? Stiamo parlando dei parchi che sono elementi di attrazione paurose. è inutile che vi stia accettare, no? Gardaland, Caneva World, i parchi acquatici, eccetera. Cioè noi viviamo di turismo in Veneto. E ai nostri imprenditori non arriva lo stipendio a casa anche se non fanno turisti. E sapete qual è la grande soddisfazione? Che i turisti stranieri stanno premendo ai cancelli per poter ritornare da noi? Io continuo le richieste di capire... e questa è una condizione che va apposta al governo, perdonatemi, ma veramente in maniera costruttiva. Dobbiamo chiarire da subito il tema delle quarantene. Perché se un turista americano arriva in Veneto e è vaccinato non deve fare quarantene. Perché sennò noi perdiamo tutti i turisti. E sapete che il cliente, come si dice, ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Ormai c'è, fra virgolette, un'abitudine familiare di venire in Veneto. Ma se cominciamo a saltare un anno, metà e metà, quest'anno li perdiamo tutti, probabilmente si innamorino di qualche isola veramente greca. E a noi non va bene questo. Noi siamo più belli della Grecia. Non c'è dubbio sul fatto che il Veneto sia oltre ogni possibile sogno dal punto di vista turistico. E quindi noi dobbiamo chiedere che si faccia chiarezza su questo. Perché è inutile farla a luglio. Chi compra i viaggi, chi compra le crociere, chi viene qua dall'estero, noi abbiamo il 68% dei nostri turisti, sono stranieri. Su 72 milioni di presenze turistiche, il 68% è straniero. Quindi la programmazione da uno che viene da distante non è, sappiamo a macchina andiamo a fare un weekend in Veneto, lo potrà fare l'austriaco che è qui, che sono nostri dirimpetta, i vicini di casa, lo sloveno o qualche croato. Ma la verità è che la programmazione del viaggio in Veneto è una programmazione importante perché non vai a farti una passeggiata. È una grande regione turistica. E dobbiamo dare garanzie sul fatto che chi è vaccinato non deve far quarantena. E ovviamente stabilire anche il tema dei tamponi perché se uno fa i tamponi capite che non ha nessun senso. E poi la diagnostica, la diagnostica il fai da te è fondamentale perché ci aiuta tanto con le scuole, con gli screening, è fondamentale con le attività in generale. Cominciamo il giro. Tosato, Giacomuzzo, Moscati. Oggi Tosato ne fa una sola, si è impegnato. L'importante è che la risposta sia efficace più che una domanda. Una c'è rischio anche della non risposta. Lo so, lo so, lo so. Invece fanno tre uguali, ne fai una e così la risolviamo. C'è Bonet che ha chiesto di parlare. Allora, guardi, la valutazione che lei al momento dà dei presupposti del decreto, nel senso che il Consiglio di Ministri mi pare è convocato alle 17. I contenuti essenziali del decreto immagino che li conosciate già perché vi siete confrontati. Diciamo, in che misura, in che percentuale, in che scala questo decreto recepisce le vostre proposte? Io sto parlando, parlo anche della sintesi che abbiamo fatto con i colleghi governatori. Siamo davanti a un governo di unità nazionale e quindi ci sono poche divagazioni sul tema. Prendiamo atto che bisogna riaprire questa attività, facciamolo con una razio che sia una razio sanitaria ma che stia in piedi. Quindi ci sono degli aspetti da chiarire. Faccio un esempio ulteriore. Apriamo i cinema e i teatri, il 26, non ho nulla contro i cinema e i teatri. E la stessa, la piscina, non sappiamo quando si potrà aprire. Cioè, si ne die, non si sa. Cioè, non si sa perché la piscina coperta non si sa quando si potrà aprire. Piuttosto che la palestra dal primo di giugno, capite che le palestre di solito in estate vanno scemmando e addirittura alcune chiudono. Cioè, ho l'impressione che ci sia, come si può dire, c'è stato impegno ma si può far di più. Per renderlo più reale, no? Anche sul Green Pass non è ancora dato a sapere quali siano gli elementi. Ma se il Green Pass diventa essere tamponati, io penso che sia logico che il pubblico debba garantire i tamponi a tutti. Cioè, non ha senso che possa fare il tampone per andare fuori in regione solo chi può pagarsi il tampone. Perché finisce, penso, ai giovani, alle famiglie o a chi comunque non ha i soldi per pagarsi anche il proprio tampone. La cosa fa? Si chiude in casa perché non ha la possibilità di certificare la sua negatività. Per cui io penso che siano ore utili per aggiustare il tiro. Sono convinto che il Presidente Draghi, che è persona equilibrata e di buon senso, saprà anche ascoltare queste, come si può dire, queste osservazioni che comunque i colleghi Presidenti fanno assieme a me. Cioè, è inevitabile che vengano fuori questi aspetti. Non ho altre domande, così la faccio contento. Però ne ho dieci dei... No, è una segnalazione da persone che secondo me hanno titolo per essere ascoltate, cioè i disabili. I disabili continuano ad avere problemi di prenotazione delle visite, soprattutto nell'Ulsa 6, quella di Padova. A visite? Sì, no, visite, mi perdoni. Vaccini? Vaccini, certo, vaccini, vaccini. Alcuni non hanno compreso il modo di forzare, come l'espressione che lei ha usato, forzare la prenotazione nel sito. Altri dicono, accettano, il portale accetta la forzatura soltanto per le persone nate prima del 1951. Questo ci dicono. Hanno provato, riprovato, chiedono... Cioè, c'è del 51. Allora vuol dire che c'è un bacco nel programma? Lo verificheremo? Perché, insomma, non è che... Non è una direttiva questa, è aperto a tutti? No, nel senso che non è che queste persone ci divertono a creare problemi. È che non ci riescono. Sì, dico benvenga a questa segnalazione, la approfondiremo. Cioè, certo è che, non so... Io lo so adesso, se è un tema di blocco... No, no, certo. Se è un tema di blocco sull'anno di nascita, considerate che abbiamo un direttore, quindi, anzi, invito il direttore Fortuna, o se qualcuno ascolta per suo conto questa conferenza stampa, di provvedere subito a verificare questo e anche al dottor Tognoro, che è da azienda Zero. Cioè, c'è un blocco dal 51? Sì. Due persone stanno provando da molti giorni, sono persone che sono più giovani, ma sono disabili gravi, e dicono che c'è questo blocco. Però loro sanno che è dal 51? Sì. Però il programma non lo dice? Come fanno a sapere? Evidentemente hanno... Vabbè, comunque verifichiamo... Evidentemente hanno dei riscontri da altre persone, magari. La verifichiamo. Grazie. Grazie per la segnalazione. Allora tocca a Cristina Giacomuzzo, poi Moscati, Natali e Bonet. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Allora, lei diceva che sono ore utili per aggiustare il tiro. Ci sono altri appuntamenti prima delle 17 con le regioni per un confronto? Beh, oggi è una giornata tutta in movimento. Il Presidente Federica poi avrà, per conto nostro, le interlocuzioni, ma insomma, penso che la base di lavoro ci sia. Come dico sempre io, Michelangelo diceva che bisogna togliere tutto il marmo in più per farla pietà. Ecco, insomma, ne hanno tolto un bel pezzo, manca ancora, insomma, per arrivare a una statua ben definita. Manca, per me, il par di coglia. Lei non vuole essere critico, però mancano tutto il pacchetto delle linee guida che non sono state praticamente ascoltate. Sì, ma soprattutto, uno può... Cioè, dal punto di vista scientifico, si può essere anche più estremi. Ma poi ci vuole anche, come si può dire, per equazione, no? Equilibrio rispetto ad altre attività. Perché tu non puoi pensare di dire di aprire, che so, un teatro e non aprire un'altra realtà che, a chiuso, potrebbe avere la stessa apertura con le stesse linee guida. O, che so, ho fatto prima l'esempio della partita dello sport a squadre e non autorizzare l'apertura di una palestra, che tra delle persone che giocano a calcio, che sudano, si abbracciano e fanno tutto quello che bisogna fare nel campo da calcio. È una palestra che va lì, che tutto è ormai diventato un cerimoniale di linee guida, con prenotazione, misura della temperatura, eccetera. E come lo vede, come commenta, in pratica, il dietrofront del governo che ha ascoltato le regioni in tema di scuola? Ma io non lo definirei dietrofront. Il governo ha dimostrato, come si può dire, capacità di ascolto e soprattutto si hanno riusciti a dimostrare che non era vera l'agenda metropolitana che qualcuno si sbracciava a portare in giro per le tv qualche rappresentante della politica che mai ha amministrato in vita sua, che voleva far credere agli italiani che se non ci sono gli autobus è perché noi non ci siamo preoccupati. Non ci sono, punto. Cioè, nel senso che vi ho detto che il governo avrebbe bisogno di mille autobus in più. Impossibile. A parte il fatto che logisticamente andremo a collassare le città. Però, a parte questo, non ci sono. La mia vicepresidente mi conferma questo. Adesso pensare al 60%. Io ieri ho fatto un intervento e ho detto, so che è stato riportato anche dall'agenzia, ho detto, ci rimettiamo poi a un tavolo prefettizio, per carità. Non vogliamo essere noi, cioè il tavolo che c'è per i trasporti deciderà qual è il livello di sostenibilità. Secondo noi in Veneto è già tanto arrivare al 60%. Se vogliamo ottenere i trasporti, come si può dire, abbastanza sostenibili. Se poi si può spingere oltre, si sa che non si rispetta più le regole. Un'ultima cosa, la curiosità per quanto riguarda i vaccini. Il Johnson & Johnson che è stato approvato, Emma e Aifa, per gli over 65. In Veneto che ripercussioni, che ricadute ha? Anche magari con un maggior numero, oltre i 40.000 vaccinazioni e somministrazioni dal 29? Si potrà aumentare ancora di più? Ma sì, adesso noi stiamo aspettando ovviamente la circolare, però insomma noi provvederemo le vaccinazioni. Adesso stavo vedendo, ma non ce l'ho, il report dei vaccini, così vi dicevo anche due da, non ce l'ho. Però insomma, dalla prossima settimana noi abbiamo un magazzino di 200.000 a settimana, in totale. Scusate, il report dei vaccini vi è già stato inviato un'ora facile? Quindi vedete lì tutti i dati. L'ultima 24.000 hanno fatto il 22.000 perché non ne abbiamo più, cioè ne abbiamo 93.000 a magazzino, ma che sono bloccati perché appena arrivano, ad esempio a AstraZeneca siamo in difficoltà, stamattina ne arrivavano 38.000, anzi dovrebbero arrivare per mezzogiorno a Mestre, ma 38.000 considerate che quando inizia a partire la macchina dei richiami, sono tanti, perché noi ne abbiamo fatti tanti, AstraZeneca nella prima fase. Proseguiamo allora con Silvia Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, si era parlato di questo benedetto coprifuoco che ieri alcune voci lo spostavano alle 23.000 e si è stato detto che il coprifuoco perché non toglierlo definitivamente, perché la risposta dei tecnici è stata quella che è un deterrente. Allora, in realtà il deterrente è anche dal punto di vista turistico, perché se è vero che i turisti possono comunque venire, al di là del problema della quarantena, chiaramente se hanno un coprifuoco, anche questo è un deterrente per le prenotazioni. Ah, ma lo è sicuramente, cioè andare a far villeggiature in un posto dove c'è il coprifuoco. Però, ripeto, io non voglio fare la figura e avere l'immagine di colui che, come si può dire, rinnega quello che è accaduto. Noi abbiamo un'infezione che è ancora in corso. Dobbiamo stare molto attenti perché il livello di rischio c'è, però penso che la sostenibilità, della portarsi in pancia a questo rischio ci possa essere aiutati anche dalla bella stagione, da tutta una serie di fattori, quali la vaccinazione. Stato di chiesto, il coprifuoco, guardate, vi dirò quale sarà il coprifuoco quando leggeremo il decreto, perché ad ora non c'è un decreto. Però sappiamo anche che è stato spostato il 31 luglio lo stato d'emergenza. Anche quello è un deterrente per il turismo. Ah sì, questo era accaduto anche l'anno scorso. Diciamo che il turista magari è meno attento a questo aspetto, lo è molto di più a fatti pratici, cioè doversi chiudere in albergo o nella struttura ricettiva alle 22, piuttosto che non avere la certezza se dovrà fare o meno la quarantena. Guardate che questo è un grande spartiacque, è una grande preoccupazione. Noi dobbiamo essere chiari sul piano di sanità pubblica riferito ai turisti. Ecco, invece tornando per esempio ai vaccini adesso, a questo pass che è stato definito Green Pass, noi sappiamo che l'AstraZeneca ha tre mesi per il richiamo, per cui in questo caso come viene valutata questa... C'è la prima e la seconda dose, sembra da quelle bozze che girano che deve essere avvenuta la certificazione, però con la seconda dose, però non ve lo so dire, stanno ancora girando bozze. Sì, perché se uno si vaccina adesso giustamente va a finire, già finita l'estate. Sì, a maggior ragione dovrà sottoporsi al tampone, ma anche lì il tampone deve essere riconosciuto, cioè... È tutto un problema. E in Johnson, l'ultima è su Johnson & Johnson, una battuta. Cioè nel momento in cui sono autorizzati i nostri clinici li somministrano. Sì, però oggi c'era un'agenzia, mi pare che dicesse, beh, se non ne abbiamo altri o non ci sono le forniture, faremo anche quelli a tutti. È corretta, forse è una... No, noi li facciamo per target, in base all'autorizzazione. Per cui niente, cioè over 60 anche di Johnson & Johnson. Sono stati liberalizzati queste forniture di Johnson & Johnson che erano arrivate? No, ancora no. Non ci sono novità in queste, grazie. No, prego. Passiamo quindi ad Alessandra Natali, poi Marco Monnet. Buongiorno, per Radio Stadio Città e Caffè TV24. Mi risulta che però ancora due attività siano effettivamente chiuse da molto. Mi spenda due parole per quanto riguarda il casino e poi per quanto riguarda anche la radio, quindi ci arrivano molte richieste per il popolo della notte che ancora non hanno precisazioni. Ma sono quei punti di domanda che peraltro restano inespressi nel decreto. Ho fatto primo un esempio, ci è stato segnalato anche dal Presidente nazionale del nuoto, che la piscina coperta nella bozza di decreto non è normata, non si trova la norma per la riapertura. Abbiamo i locali della notte o meglio il mondo dell'intrattenimento che è letteralmente paralizzato e fa parte delle categorie più penalizzate dal Covid fin dal primo giorno. Giustamente molti operatori quando io li incontro mi dicono, ma scusa, se era colpa nostra la diffusione dell'infezione, siamo sempre Serai, adesso è acclarato che noi non abbiamo, vi ricordate quest'estate che sembrava che l'infezione fosse partita da tre discoteche. La verità è che sono otto mesi che sono chiusi e l'infezione continua ad andare avanti. Così il mondo dei spettacoli viaggianti, ricordiamoci tutto il tema fiere, giostre e affini, Luna Park, che sono anche loro poveri, costretti a non... Io ho conosciuto, ve lo dico, ho conosciuto operatori che hanno la giostrina a casa e si sono fatti assumere a fare attività, a lavorare di notte nella nettezza urbana, a queste robe, cioè in attesa che si riaprano le sagre e che possano ripartire con i loro spettacoli. Il mondo della notte non sarà più, non so quanti riapriranno sinceramente. E poi c'è il tema, guardate, del palestre, che anche lì è tutto un mondo che non so che fine farà rispetto alle riaperture, perché riaprire il primo di giugno è già tirata. E il casino che invece comunque... Ma sul casino, anche lì, il casino, penso non abbia condizioni di trasmissione maggiori di altre strutture chiusa, di un cinema, di un teatro, perché non mi pare che il casino sia così. A parte il fatto che ci sono le linee guida, a parte il fatto che sono anche pubbliche le gestioni, per cui non è... Cioè, figuriamoci, diciamo, il capitale pubblico del casino, Venezia al suo, se parliamo di Venezia, e quindi c'è maggior attenzione ancora, no? Se vogliamo, proprio perché il pubblico ha l'ossessione di applicare la norma in maniera ossessiva. Anche lì non c'è notizia. Tutto tace. Si parla di fiere, spettacoli, parchi, eccetera, dal primo di luglio, però dovrà essere chiarita questo aspetto del casino. Presidente, secondo lei questo Governo ascolta di più le regioni? Possiamo, anche parlando, si è espresso prima per quanto riguarda... Non è un dietroforo, te l'ha detto, ma insomma vi ascoltano di più per quanto riguarda, ad esempio, la scuola. Ci possiamo collegarlo a un qualche aspetto di autonomia? O di presa di coscienza maggiore? Ma sapete, la presa di coscienza maggiore durante il Covid è che le regioni sono, diciamo, dei bracci operativi sul territorio, riescono ad essere la parte operativa che nessun Governo nazionale potrebbe avere. Cioè, è illusorio pensare che un Governo centrale possa gestire la sanità come la gestiamo noi. ma non perché siano degli incapaci, perché ci puoi mettere chiunque, la catena decisionale è talmente lunga, è come se a me facessero gestire la sanità, che so, della Sicilia, piuttosto della Calabria o della Val d'Aosta, stando qui in Veneto. È inevitabile che le distanze, è vero che sono ridotte dalle nuove tecnologie, ma uno deve salire, respirare l'aria, capire cosa succede. Insomma, sono sempre aziende. Può essere una prova di autonomia? Ma sì, io penso che l'avvento è stata superata a pieno titolo questa, no? Prova di autonomia. C'è stato questo dibattito, no? Sul togliere l'autonomia alle regioni, visto cosa è accaduto nel Covid. La toglierei ai Governi, io ho visto cosa è accaduto nel Covid, no? Alle regioni. Basti guardare l'accordo fatto per i vaccini e vedere che noi potremmo vaccinare molto di più, ma non abbiamo i vaccini. Grazie. Prego. Marco Bonet. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ho una domanda e quindi cerco di andare rapido. Sul tema della scuola, quindi mi pare di capire che la regione non intende dare un'indicazione univoca per tutti, lascerà le province, perché leggo che ci sono, alcuni propongono soluzioni come mandare in presenza solo le prime e le quinte. Ma lì c'è l'ufficio scolastico regionale, ognuno deve fare il suo mestiere, no? Noi che siamo autonomisti incalliti, riconosciamo l'autonomia assolutamente dell'ufficio scolastico regionale. Ovviamente che dovrà interfacciarsi con le potenzialità dei trasporti, ma fino ad ora con l'ufficio scolastico regionale, con la dottoressa Palumbo, è avvenuto in maniera sublime questo collegamento. Quindi la regione non darà un'indicazione valida per tutti, ogni tavolo deciderà in provincia per provincia. Poi, a mio avviso, se riesce a fare una roba uniforme è meglio, ma se poi c'è qualcuno che in base alle sue attività, diciamo, provinciali, riesce a garantire, che so, qualcosa in più, qualcosa in meno, lo capiremo. Però, insomma, sarà il tavolo che è sovrano, no? Certo. Poi, per sintetizzare il suo pensiero sulle aperture, così mi dice se sbaglio, se ho capito male io, ma mi pare di capire che la sua linea è di riaprire tutto con le linee guida. Cioè, ci sono le linee guida, si potrebbe, secondo lei, riaprire tutto con i protocolli di sicurezza, ho capito bene? Io ho detto che le regioni hanno fatto le linee guida e se le abbiamo fatte è perché crediamo che quelle linee guida ci garantiscano sostenibilità e attenuare il rischio. Dopodiché, per carità, c'è un CTS che è sovrano anche in questo caso, però se esprime, diciamo, soluzioni che sono discordanti tra un settore e l'altro, ci perdiamo, no? Ok. Non c'è uniformità. Va bene. Poi sul tema dei vaccini, Pfizer avrebbe comunicato l'arrivo di una nuova fornitura. Le risulta? Sì, sì. 50.000. Questa settimana? No, sta settimana sono 126.000 che sono arrivati ieri, se non ricordo male. Però sembra che ne arrivino altre 50.000, forse lunedì, una roba del genere. Non so esattamente. Comunque in questo momento ne abbiamo 93.000 magazzino in totale di vaccini. Perché sapete, ad esempio, è in corso una fornitura di 38.000 AstraZeneca e qua non ce li ho segnati. Non ho segnato neanche i Pfizer. Comunque noi, verosimilmente, guardate, io penso che per domani mattina noi dovremmo avere 200.000 dosi, secondo i conti che abbiamo fatto, perché qua non ho ancora caricato. Ok. Poi, rispetto a quello che diceva Filippo, solo un dettaglio della prenotazione di disabili. Mail in tempo reale dice che è il numero verde che dà comunicazione del 51. Il numero verde? Sì, cioè, leggo, dice, riguardo alla prenotazione di fragili, il sistema non accetta se è nati dopo il 51. È il numero verde che dice che non si può prenotare se è nati dopo il 51. Cioè, si ascolterà anche il signore Lazzarone di Altea, che dice che ascolta sempre e quindi avrà recepito che il numero verde dice... Ecco, ci chiedevamo come facevano a sapere giustamente questa roba del 51. Eh sì, perché il 51 a noi è ignoto, sarà un inghippo nato chissà da dove. Comunque, se riusciamo a verificarlo subito, vi ringrazio. Ultima cosa, extra covid, è stato nominato il nuovo presidente del porto. C'è questa particolarità che per la prima volta è un professionista che non è né veneto, cioè né veneziano, non ha mai lavorato qui, è completamente, diciamo così, estraneo alla città. Allora, spieghiamo come viene la nomina del presidente del porto. C'è un bando nazionale, si presentano in curricula, il ministro poi dal bando pesca dei nomi e chiede semplicemente il gradimento al... come si può dire? Più che il gradimento è un termine giuridico che non ha senso. L'intesa, ma neanche un'intesa, l'intesa debole. Com'è che si dice? Un ok, diciamo. Un ok. Un ok. No, è sentita, è un sentita. Vabbè, insomma, vi dirò che i nomi che sono stati presentati a noi sono esattamente quelli che sono stati poi nominati in giro per l'Italia. Su il dottor Di Blasio, c'è stato poi alla fine, dopo un paio di proposte, è arrivata questa proposta, il curriculum ce l'ha e appunto, questo fa parte della rosa dei nomi che ha proposto il ministro. Io non lo conosco. Però ho visto che ha avuto... ci sono state date buone recensioni... Come il TripAdvisor. Come il TripAdvisor. 5 Stelle. Va bene. Ormai se va tutto a recensioni, anche Barbierga è recensione. Ok. Anche i presidenti della regione... Io stavo dicendo anche i giornalisti, pensano... Avevo sempre pensato a tale e tale... Va bene, grazie. Prego. Alda Vanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Quindi, sostanzialmente, sulle aperture oggi avete ulteriori margini di trattativa... Sì, decisamente sì. Io spero proprio di sì. Ma attenzione, scusami, ne approfitto per la domanda. Non margini per andare lì a fare i fenomeni. Per fare in modo che ci sia un equilibrio e una logica in quello che sta accadendo. Perché, ripeto, non puoi aprire un teatro e pensare che altre attività simili restino chiuse. Piuttosto che non puoi pensare che la ristorazione... Vi ho fatto prima l'esempio. Il primo di luglio si apriranno i parchi acquatici. Pensare che siano quelli all'aperto più difficoltosi di altre attività chiuso che avevano aperte due mesi prima... Vedo dura. Prima ero in tv con dei ristoratori e facevamo vedere tutte le foto, le immagini della metropolitana di Roma dove c'era il caos. E noi siamo qua con 12 avventori che non possiamo neanche portarli da fuori o dentro al ristorante. Lei prima aveva detto, poi vi dirò cosa penso del Green Pass che Bolzano tra l'altro l'ha già istituito. Bolzano farà un'applicazione, la provincia autonoma di Bolzano farà un'applicazione sul telefonino, si aprirà una schermata verde e con quello uno fa quello che vuole. Basterà dimostrare appunto di essere stato vaccinato o di avere tampone negativo nelle precedenti 48 ore oppure di avere avuto il Covid e quindi di essere tra virgolette immunizzato per un periodo X. E con questo Bolzano già parte. Lei che cosa pensa e è d'accordo con Bolzano? Che cosa farebbe? Io condivido quello che fanno, il problema è che la fortuna è che loro hanno l'autonomia. Dopodiché si cercherà anche di capire con questo decreto come verrà inquadrata questa attività. Perché se a noi dessero la possibilità di fare in modo, pensate solo, vaccinato, guarito, che ha gli anticorpi, tamponato, cioè testato, ha fatto le tre categorie. Quindi uno potrebbe tranquillamente gestirsi i suoi accessi in base al fatto che è negativo. E qui non abbiamo risolto il problema. Se dopo vogliamo non farle neanche uscire di casa è un'altra roba. Però oggettivamente il nostro problema è l'incrocio, ce l'hanno detto per un anno e mezzo, l'incrocio con il positivo, no? Il fatto che tu ti avvicini a un positivo. Immuni funzionava così. Quindi Presidente, se ci fosse questo dubbio, poi era che non certificato, cioè chiamiamo Green Pass, in realtà un certificato che dice che tu non contagi tendenzialmente. Lei con quello aprirebbe tutto? I ristoranti, la piscina, la palestra? A quel punto riusciamo a normare, diciamo, gli ingressi. Pensate a un ristorante, una piscina, un bar, un teatro, un cinema. Ovviamente non è che possiamo scaricare sul cittadino il costo della sua libertà. Perché i colleghi convengono con me che i tamponi devono essere pagati dal pubblico. Del pubblico per me significa dallo Stato. Noi tassi ne paghiamo già tante. Un'altra cosa vorrei dire, le case di riposo, abbiamo i turisti che probabilmente arriveranno qui perché saranno vaccinati, perché appunto saranno in regola. E però abbiamo gli ospiti delle case di riposo che sono vaccinati e che restano reclusi nelle case di riposo. Non è un controsenso? No, no, è una vergogna, non un controsenso. E c'è una norma nazionale che deve essere modificata. C'è una direttiva nazionale, ve l'ha detto anche l'assessore Lanzarini. Io penso che sia la vera tragedia in questa fase. Pensare che ci sono delle persone ormai immuni, ipervaccinate. Perché se pensate noi delle case di riposo ormai non abbiamo più... Abbiamo avuto un esempio di un focolaio che è nato e si è spento perché poi essendo vaccinati... Siccome continuiamo a testare, troviamo il virus, ma è un virus che non ha avuto nessun effetto scatenante in malattia, bisogna che venga risolto questo problema della riapertura delle case di riposo. Perché il trauma psicologico è un trauma importante. Del resto mi metto nei panni dei gestori. Dopo tutto quello che abbiamo letto e sentito dire da alcune bocche, cioè chi è che ha il coraggio di aprire neanche la porta d'ingresso? Nessuno. E poi gli esiti anche di molte dichiarazioni sono questi. In un paese nel quale si denuncia tutti. Secondo lei, ultima domanda Presidente. In attesa del decreto, quindi delle nuove disposizioni e della mediazione che state tentando con il governo, se uno ha un'attività tipo ristorazione, bar, nell'attesa aspetta di capire cosa succederà? Oppure sa che, ad esempio, i ristoranti che aprono per le mense, per gli operai, continueranno al chiuso a farli? Allora, secondo me, continueranno. Però si aspetta il decreto, immagino, su questa cosa? Si aspetta il decreto oppure è già certo? No, secondo me non andranno a toccare quell'aspetto, perché il tema è quello lì. Lo fanno a sostegno delle imprese, quindi si è sempre fatto anche durante il lockdown. Se togliessero questa facoltà, in assenza di lockdown, vi ripeto che noi non abbiamo un lockdown dietro le spalle. Abbiamo una zona, fratto, arancione oggi. Fratto, ho visto i dati, domani, allora io vedo di invitare l'ingegnere Fattori per venerdì, così vi dà lo schema delle possibili fasce di popolazione, sì, il tabellone. E domani vi diamo anche i dati, le proiezioni dei dati su R con T e incidenza, ma comunque stanno andando giù, visto delle ULS che sono a 60 di R con T, 0,60. Sì, possiamo recuperare la tabella dei focolai scolastici, che ovviamente è in movimento, sulle scuole è in movimento, la cosa. Cioè non è che, cioè proprio faremo un percorso netto, eh. Sì, è bene ricordare che tutti siamo per l'apertura della scuola, ma tutti dobbiamo avere coscienza che la circolazione del virus aumenta. Grazie, buon lavoro ragazzi. Grazie a tutti, a domani. Verifichiamo quella del 51, adesso la verifichiamo.